ciao a tutti ben ritrovati nella mia cucina come state guardando c'è un bel peperone rosso è una bella cipollona tagliata già tanto non ve lo faccio vedere perché diciamo che sappiamo pulirla tutti basta tagliare un peperone a listarelle e le cipolle tagliate sottili così e andrò a fare una schiacciatina di verdurelle al forno quindi metterò la farina di ceci e adesso vediamo il tutto il procedimento in una ciotola ho messo 160 grammi di farina di ceci e metterò 320 di acqua metto un po di sale devo salare anche questi un po di origano un po di aglio in polvere un po di olio mescoliamo meglio con una forchetta così rompiamo i grumi prendiamo una teglia e mettiamo olio e pangrattato e poi ho dovuto prendere questo perché i grumi non si rompevano con la forchetta adesso questo composto lo vado a mettere qui dentro mescoliamo e adesso lo vado a mettere in teglia ecco fatto così mettiamo pangrattato sopra per farlo venire ancora più croccante formaggio e per finire come potete vedere purtroppo mi serviva l'altra mano un po di olio e adesso dritto in forno a 250 gradi fino a completa doratura se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo in un'altra prossima ricettina fatela che buonissima buona